Oggi è un momento molto molto speciale per me e per la famiglia Cayola, oggi stiamo consegnando la Guaira BC. Questa macchina, l'ispirazione di questa macchina è stata proprio un omaggio a Beni, un amico ma anche una persona straordinaria, un grande esempio di vita e per chi ha avuto la passione di conoscerlo, è stato veramente un privilegio. Nello specifico questa è verificata anche in un colore che nel 2003 è stato creato per lui, ricordo che un giorno a Beni mi disse guarda devi farmi la roster, la sonda roster di un rosso, però dice deve essere un rosso elegante e allora ci ho lavorato quasi un anno per creare questo colore che di giorno doveva veramente esplodere, essere molto molto vistoso e poi alla sera invece doveva diventare quasi un bordo. Questo è l'input che mi aveva dato Beni, perciò non è stato facile, è un colore fatto da tanti strati e alla fine lui insomma era molto contento, era il sole, perciò la vista va, l'ha detto incredibile. L'avevamo in qualche modo rispettato, è un po' come quando abbiamo fatto anche la sonda, la sonda F, dice voglio un colore bianco, ma come vuoi il bianco? Dice voglio il bianco come quello dei miei capelli, allora cavolo, gli dico non è facile, però al limite se non riesco a farlo uguale ti do un litro di vernice e ti puoi tincere tu i capelli con la vernice della macchina, poi alla fine insomma la vernice è venuta bene e a lui le piaceva. La macchina è venuta bene e a lui. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.